Ciao a tutti, siete venuti sul nostro canale di notizie. Non dimenticate di abbonarci e condividere per supportare il canale. Rosie Chin, amica di Nicole, l'ex fidanzata di Letizia, non sapevo delle botte, mi ha fatto male nel giorno successivo alla puntata in cui Nicole ha recapitato il suo messaggio a Letizia. Rosie Chin decide di condividere la sua opinione sulla vicenda. Non è un segreto che la chef milanese conosca l'ex di Letizia e lo conferma dicendo siamo grandi amiche. Descrivendo Nicole, Rosie la loda dicendo ha un cuore immenso, pazzesca, generosa, buona, troppo buona. Nell'ambigua situazione sentimentale di Letizia Petris al grande fratello, c'è un aspetto poco esplorato. La concorrente ha raccontato ai suoi coinquilini di aver vissuto un grande amore con una ragazza di nome Nicole, la quale fuori dalla casa ha riversato tutto il suo risentimento verso Letizia per come sono andate le cose tra loro. Dopo una puntata intensa e un messaggio da parte di Nicole, che è stato recapitato, resta incerto quale sia il ruolo di Rosie Chen, nota amica di Nicole fuori dalla casa. La reazione di Rosie Chen al messaggio di Nicole. Nel giorno successivo al messaggio di Nicole a Letizia, Rosie Chen decide di esprimere la sua opinione. Pur essendosi mantenuta inizialmente in disparte, senza commentare molto una vicenda sentimentale che non la riguardava, dopo lo sfogo dell'amica Nicole, Rosie non può fare a meno di condividere i suoi pensieri, lasciando intendere di aver rivalutato profondamente Letizia. Ha un cuore immenso. Pazzesca, generosa, buona, troppo buona, dice riferendosi a Nicole, in una conversazione con Angelica. Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso, aggiunge. Questo inevitabilmente cambierà il suo modo di interagire con Letizia nella casa. Meno male che ho fatto il cambio di letto il giorno prima, perché sennò dopo non avrei potuto più farlo. Perché Rosie Chen e l'ex fidanzata di Letizia si conoscono. Nonostante non sia mai stato approfondito l'argomento, è noto che Rosie Chen conosca Nicole fuori dalla casa. Nei social della ragazza, infatti, ci sono vari commenti della chef milanese, che lasciano intendere una certa confidenza tra loro. Non potrei mai, ma brava amo, commenta un post in cui Nicole si lancia da un aereo. Una volta lo facciamo insieme, già ci immagino, replica Rosie. In un'intervista recente a Tag24, Nicole ha confermato l'affetto che le lega a Rosie, definendola una mia grande amica. Vittorio Menozzi. Ho un cervello molto femminile, ma non ho mai avuto esperienza con altri uomini. Dopo il toccante racconto di Letizia sulla sua esperienza omosessuale, Vittorio Menozzi decide di condividere le sue riflessioni sulla libertà e i pregiudizi. Rivolgendosi a Letizia, con cui ha un forte legame affettivo, Vittorio apre il suo cuore e parla della sua esperienza personale. Sebbene alcuni coinquilini abbiano sollevato dubbi sulla sua presunta omosessualità. Vittorio ha sempre evitato di approfondire l'argomento.Vittorio si confida con Letizia riguardo all'omosessualità. Quando ho cominciato a lavorare nel mondo della moda, ho iniziato anche a farmi delle domande. Perché ci sono molti ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono e ti sono vicini, spiega. Ho incontrato ragazzi molto intelligenti, profondi e aperti al confronto. Io ho una parte del cervello molto femminile, lo so e non mi vergogno. Tuttavia, ammetto di non aver mai avuto esperienze con altri ragazzi, assicura. Poi c'è il peso dei pregiudizi da considerare. È un mondo ancora retrogrado e molto diviso. Prendere una posizione coraggiosa o persino provare a fare un'esperienza per capire se è qualcosa che richiede coraggio. Devi farlo con consapevolezza, altrimenti rischi di sentirti sbagliato. È difficile gestire tutto in modo sano e tranquillo. Letizia e la paura del pregiudizio. Nell'ultima puntata, Letizia ha avuto l'opportunità di rivelare un aspetto della sua vita che le ha causato sofferenza. A lungo ha mantenuto segreta la sua relazione con Nicola a causa della mancanza di accettazione da parte della sua famiglia riguardo alla sua omosessualità. Ho dovuto interrompere la relazione con questa ragazza nonostante fossi innamorata. Ha condiviso con i compagni. Questo perché mio padre non poteva accettare. Mi sentivo in colpa nei confronti di mio padre. Mi sento ancora in colpa perché è morto mentre ero con lei e non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, ma mio padre non l'ha mai accettata. Grazie per aver guardato l'intero video. Per favore, iscriviti e condividi per supportare il nostro canale e produrre video migliori. Grazie e ci vediamo di nuovo.